Quando cuciniamo un cibo sui fuochi, la fisica ci dice che il calore della fiamma si propaga per conduzione. Siamo sicuri di utilizzare bene fuochi grandi, fuochi piccoli, pentole e padelle? Proviamo a fare un esperimento. Mettendo la pentola direttamente sul fuoco grande, bello vivo vivo, notiamo con una termocamera che il calore, la fiamma, non sta lavorando solo sulla superficie della pentola sotto, ma sta addirittura sbordando, riscaldando l'aria circostante, quindi stiamo sprecando energia. Se invece ci spostiamo sul fuoco piccolo, guardate quello che succede con la termocamera. Il calore della fiamma è perfettamente concentrato sotto la superficie della pentola, non c'è spreco in questo caso. Quindi se con le pentole che hanno una geometria verticale il fuoco grande è sprecato, così come abbiamo visto, con le padelle è differente. Queste hanno una geometria orizzontale, quindi il fuoco grande potrà distribuire la fiamma su una superficie maggiore, lavorando senza spreco. Buon appetito a tutti!